E Allah gli dice ti mostrerò la via come fare per ritornare a me, devi credere in me, quindi secondo ordine dopo avere fede in Dio è stato il matrimonio. Ma nonostante Allah l'avesse perdonato, dopo questi trecento anni ancora non era felice perché qualcosa mancava, qualcosa mancava, che cos'era che mancava, metà di lui mancava, lui si sentiva solo a metà, mezzo Adam. Quindi gli disse vai a cercare Eva, immediatamente si sentì felice. Si ricordava del paradiso, che Eva era la sua moglie in paradiso. E quindi era felice che Allah si era ricordato di lui sulla terra e gli voleva ritornare a dare Eva. Quindi poi vai verso l'Arabia nel Jaze, la troverai lì. E Adam si trovava in Sri Lanka. Lui è disceso, il primo piede che ha messo sulla terra è in Sri Lanka. E c'è ancora la sua impronta sul Monte Salerno di Pio. Quindi di Kundò immediatamente ed era un gigante. Come un passo arrivava a Riccione, con due arrivava a Roma. Era un gigante. E lui era anche in riuscita. Non resta, non stoppita. Senza riposare, per Eva. Vado a trovare Eva. E finalmente arrivò al confine del Mar Rosso. E non poteva credere ai suoi occhi. Questa è Eva. Era rimasto senza parole. Che era ancora più bella di quando ero in Paradiso. Dopo un po' ritornò a se stesso. Ci vuole un po' di tempo. Allora lui le disse, vieni. E lei gli disse, no, tu vieni. E avrai altro da capire su questo durante il matrimonio. Quindi il secondo ordine di Allah Onipotente per l'essere umano dopo il credere in Dio è il matrimonio. E' molto importante. E il profeta dice, salallahu alaihi wasallam, il profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse, Il matrimonio è metà della via. La via è la tua vita. Questa è la via. Non c'è nient'altro di più importante che della tua via. Non c'è nient'altro di più importante che della tua via. Non c'è nient'altro di più importante che della tua via. E' la mia spiritualità. E' tutto riguarda la via. E la metà della via è il matrimonio. Quindi deve essere una cosa veramente importante. E anche questo lo troverete o scroperirete durante il vostro matrimonio, inshaAllah. Sì, è molto importante. E... Una volta era seduto il profeta, salallahu alaihi wasallam, con i suoi compagni, e... E i compagni chiesero, vorremmo sapere chi è il migliore di noi. Chiedici, chi è tra di noi il migliore. E il profeta ha detto, salallahu alaihi wasallam, Il profeta disse, il migliore di voi è colui che ha la fede più completa. Perfetta. They said, ah, Ya Rasulullah, yes. Ma non erano soddisfatti, vogliono capire chi era tra di loro. Chi è il uno, Ya Rasulullah, con la migliore iman, con la migliore di fede? E ha detto, il migliore di voi è con la migliore di fede, e la migliore di fede è quello che è più bello alla sua vittima. Quella, il profeta disse, quello che ha la fede più perfetta fra di voi è colui che ha i modi più gentili con la sua sposa. That is the best one. The best one of you is that one who is most kind to his wife. Il migliore di voi è quello che è più gentile con la sua sposa. Very famous and very famous saying of the prophet Salam alaihi wasallam. saying, but it's very important. Mai importante. Se lo sono dimenticati, ma è importante. Il migliore di fede è il migliore di fede è il migliore di fede. Il migliore di fede è il migliore di fede è il migliore di fede. Il migliore di fede è il migliore di fede è il migliore di fede. Grazie a tutti.